Nel 1894 Pietro Tamponi, scrivendo di Terranova, citava la piazzetta del Balchile. Era l'attuale piazza Regina Margherita, ma i vecchi continuavano a chiamarla su un piccadolzu, dal tempo in cui il piazzale serviva alle esecuzioni capitali, con la forca e il boia, in quella che Langeus definiva Terranova, antica città ridotta a semplice borgo, che occupa un'area lunga 400 metri e larga 350 metri cubi.